Subito dobbiamo immergerci nel match numero 6 Match numero 6 che vedrà sfidarsi Fiorentina e Bologna Sono tanto curioso per questa sfida Perché la Fiorentina va in campo ancora una volta con il suo Godmode Che ben si è comportato nelle prime battute Dall'altra parte invece abbiamo per la seconda volta la scelta da parte del Bologna con Storari Di conseguenza ancora una volta si affidano al player che arriva dal pubblico Lo possiamo anche definire così Però al suo fianco abbiamo visto che è cambiato Perché probabilmente, io l'ho vista da fuori la prima gara Raiola non è stato in grado di tenere calmo L'ho visto proprio tremare, è arrivato ad un certo punto Era avanti di uno Adesso avere Lornwolf secondo me al suo fianco può dargli un vantaggio in più Assolutamente sì, anche perché Marco La prima partita era contro il campione in carica Ha già rotto il ghiaccio di fronte a un Godmode Che invece è andato così così contro Karim nella scorsa partita Ma comunque è iniziato già il torneo ad alti livelli Parlavi di guida Da una parte Lornwolf scelto dal Bologna Dall'altra Likan che invece supporta e sopporta Godmode in 360 gradi E devo dire quanto può essere importante avere una figura esperta al proprio fianco È importantissimo, fa tanto la differenza Perché poi i coach, perché in questo caso parliamo di coach Non ti insegnano a giocare Quello proprio dimentichiamocelo Tutti i ragazzi che vediamo qui seduti sono dei fenomeni Perché se sono qua sono dei fenomeni E allora andiamoli a vedere però in partita Questi fenomeni con la sfida tra Fiorentina e Bologna Con la sfera che viene come al solito girata sulle fasce Per provare a gestire ed allargare subito quelle che sono le maglie della difesa avversaria Darmianneo Che sì Attende l'aiuto di qualcuno là sulla destra Nessuno che viene incontro E allora si deve riniziare da Koulibaly Ternandeseo Gullit viene a prendersi il pallone Nulla di fatto Cambio di lato qua Troppo avventato Pallone che rotola troppo forte E dunque sfera regalata agli avversari Ronaldinho Milinkovic Savic Palla in verticale Deviazione e recupero Da parte della Viola Koulibaly Ancora a girare Cinque minuti è successo praticamente di tutto Perché abbiamo visto tanti palloni persi da una parte e dall'altra Calma Due filosofie opposte tra l'altro Perché Godwin da una parte ci ha fatto vedere una filosofia piuttosto attendista Qui però attenzione al cross sul secondo palo A cercare come al solito Ibrahimovic Che quando arriva là È sempre pericolosissimo Attenzione al secondo palo Perché abbiamo parlato prima di mismatch Ma qua Ibrahimovic probabilmente il mismatch lo vince con chiunque E l'abbiamo visto proprio col Bologna E un Bologna invece che è sempre stato aggressivo nella partita contro il Cagliari Lo fa vedere anche contro la Fiorentina Uno Sturari che non ha assolutamente paura di mantenere il possesso di palla Anche contro Godmod mi aspetto una gara da parte del draftato di assoluto livello Perché il Bologna con tre punti potrebbe scardinare anche le sicurezze all'interno di questo girone Stai importantissimo iniziano a pesare Siamo all'inizio del girone ma iniziano già a pesare tanti punti Quindi non si può più lasciare nulla per strada Ronaldinho Gullit Maldini Ternandez Adesso Milinkovic Savic Si ritorna sempre sulla sinistra Dove c'è Ternandez Milinkovic Savic sale la linea dei difensori da parte della Viola Milinkovic Savic ancora per Ternandez Si gioca solo sulla sinistra Arriva il cross dentro l'aria Colpo di testa di Ronaldo La palla rimane lì Deviazione poi Ronaldo Non sbaglia il minuto numero 15 Passa avanti il Bologna Con Ronaldo Un po' di fortuna dentro l'aria Ma alla fine Quello che conta Che il pallone va in porta 1-0 E lo dicevo Lo dicevo Non ha paura questo ragazzo Dal draft Al palcoscenico dell'Iserea La torsione di R9 Al terzo tentativo Dentro l'area di rigore Come gli era successo contro Danny Pitbull Passa lui in vantaggio Anche sei minuti Sono davvero pochi sul cronometro Ovvero 16 Ma la sua aggressività Continua 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 Infatti riesce anche a recuperare il pallone Qui Gullit Non riesce però Servire il compagno Adesso attenzione Perché si apre una pratteria Qui si allunga Il pallone La Fiorentina Qualche modo Chiesi a recuperarla Chiesa Chiesi Ancora dialogare con il proprio numero 11 Sempre verso Chiesi Il dialogo fra i due Chiesa Cercando un raddoppio Qui Ronaldinho dentro A cercare Ronaldo Miracolo Da porte di Mignoneo Cos'è andato Fida perché la Fiorentina Una Fiorentina Una pratteria Una pratteria dinanzi a sé Avremmo trovato Praticamente All'interno dell'area Di rigore Nulla di fatto Però è ancora il Bologna Che gestisce Il cross dentro Per Gullit Che non calcia Cerca l'extrapass Troppo altruista Qui in sezione Intanto dentro l'area Perché stava per succedere di tutto Ma di Gullit È solissimo Aveva già letteralmente Schiacciato Il tasto del passaggio Dentro l'area Perché non si aspettava Di essere così libero Storari Ma ancora una volta Questo scavetto Andare dietro i difensori È una delle potenzialità Di questo FIFA 22 Si sta vedendo Tutto il panorama E l'armamentario A disposizione Dei nostri pro player Abbiamo parlato del cross Abbiamo parlato dei tagli Ed eccolo qua un altro Ancora Che arrivano Questi cross Sempre dalla tre quarti Sempre pericolosissimi Sempre l'inserimento Da parte di una delle punte Addirittura di un centrocapista Prima abbiamo visto anche un difensore Spingersi in zona avanzata Qui intanto Ronaldinho Prova ad accelerare Si allarga Sulla destra Il dribbling Attende l'aiuto dei compagni Nessuno vicino Cerca la giocata Elastico Poi se ne va con il tunnel Viene però fermato Da Teo Hernandez Qua probabilmente esagera Godmode Si va ad isolare Sulla fascia Non ha nessun compagno a rimorchi Un pallone orizzontale Qua pericolosissimo Si cerca Sì tanto la fascia Per una volta che arrivi lì Probabilmente quando arriva La chiusura Non hai più nessun compagno vicino E dunque Devi cercarti Necessariamente Uno contro uno Anche perché Ronaldinho Sulla fascia Perde un po' di imprevedibilità Quando è invece Dentro l'area di rigore Basta una finta Una skill Per trovare la conclusione Da lì Ronaldinho Doveva farne veramente troppe Per trovare il pertugio giusto Vediamo però Se Godmode In questi 30 secondi Riesce A recuperare palla Invece no Storari Forse l'ultima occasione Ma si conclude Il primo tempo Venisce qua La prima frazione Di gioco Con il risultato Che vede avanti Il Bologna Per 1-0 Una parete molto chiusa Abbiamo visto Cercano tanto Quelli che sono I traversoni Dalla 3 quarti Sulle fasce In alcune circostanze Però mi sento di dire Che hanno anche timore Di cercare Quella tipologia di giocata Che abbiamo visto Funziona Bologna Poteva essere anche avanti 2-0 Perché l'occasione Dentro con Gullit È solissimo Di forse Attendere un istante In più Per fare quel passaggio Vedere Era un 2 contro 1 Si doveva necessariamente Fare qualcosa di più Però adesso Questa ripresa Anche perché Forse Anche qualche cambio Di modulo Per quello che sto vedendo Stava sistemando Un 4-1-2-1-2 E la Fiorentina Per non parlare Però delle occasioni Avuto da Godmo Della gran parata Di Mignan A metà del primo tempo Mi sembra una partita Comunque giocata Da entrambe le parti A viso aperto Anche perché I tre punti Cambierebbero Gli equilibri Della classifica Sia Dalle parti di Firenze Sia dalle parti di Bologna In questa ripresa Secondo me Vedremo un Godmo Sicuramente all'attacco Però attenzione qua Perché è il Bologna Che prova a spingersi In avanti Padagna Un calcio d'angolo E adesso attenzione Dentro perché C'è un signore Che si chiama Ibrahimovic Che potrebbe andare A svettare di testa E lo fa Arriva la parata Però sul primo palo E ancora una volta E sempre lo svedese Sempre più in alto Di tutti Nulla di fatto Uno dei pochi calci d'angolo Visti finora Però Stava per rendere giustizia Però attenzione Qui dall'altra parte Perché è Ronald Digno Ad incrociare fuori Quasi Ad urlare al gol Attenzione Brutta Palla persa Ronaldo dentro Per Chiesa Che prova a girarsi C'è il calciare Miracolo Mamma mia Si è aperta la scatola Adesso è tutto divertimento Altro cross Dentro a cercare Ibrahimovic Qua forse troppo velleitario Eravamo addirittura Ai confini Dell'area di rigore Gollito Con il lancio Lunghissimo Per Ronaldo Mignon Ancora dire di no E sarà corner Vediamo cosa vanno ad inventare Con Ronaldo Gioca vicino Per Chiesa La palla è fuori Per Tornandes Subito Chiesa Potrebbe anche pensare Al tiro Chiesa Cerca la giocata Sinistro Ribattuto calcio d'angolo Adesso però La Fiorentina Prova a rendersi Ancora più pericolosa Altro corner Il secondo in successione Palla fuori Per Chiesa Dentro verso Ronaldinho Elastico sinistro Coulibaly E poi Mignon Che la va a bloccare E adesso il Bologna Prova a respirare Mamma mia One man show In questo inizio Di ripresa Per Godmo Della sua Fiorentina Ma resiste Il muro Eretto da Storari E da parte di Mignon Forse un paio di conclusioni Troppo affrettate Perché avevano davanti Il diretto difensore Che era Coulibaly Nella occasione Precedente Di Ronaldinho Dall'altra parte Anche un po' di sfortuna Per i ragazzi della Viola Sfortuna Sicuramente Possiamo citarla In questo caso Vedendo le tante Occasioni Da parte di Godmod Darmian Darmian Milinkovic Fretta Poteva fare Un passo in più Cercare uno spostamento Da parte della difesa Palla perisce Una situazione Come attacca Termerà Davvero pochi Dentro l'area piccola Ronaldo Palla dentro Ibraimovic 2-0 Bologna Non perdona Scesni Che la va a scaraventare Rimessa laterale Finisce qua la sfida Vince per 2-0 Il Bologna Con Storari Che Lasciamelo dire Non mi sorprende Vederlo giocare così Perché Sì E' un ragazzo Che arriva dal draft Ma è un ragazzo Che ha tante capacità E l'ha fatto Anche vedere Nell'ultima qualifica Perché Non è andato così tanto male Già arrivare a giocarti Una qualifica Significa tanto E qua sta dimostrando Tutte le sue potenzialità